Ciao ragazzi quanta gamer 64 e oggi siamo sulle... oh non mi ricordo come si chiama ma siamo in compagnia di Alex10 Ciao a tutti In questo video dobbiamo fare queste cose Alessandro ha fatto una provata adesso però non lo sta registrando Non lo sta registrando Fai un po' le palle Vabbè comunque allora io direi sì ti fa... ma se non hai fatto perché ho troppi pochi cuovi, devo muovere prima di me Ti ammazzo io? Ti ammazzo io? Ecco, e poi tu devi da giù, qua non vuoi da nessuna porta Eh? Ci scommetti? Non vuoi da nessuna porta Perché? Mi sa che è finito qua eh, ah no, l'ultimi! Ah, ho finito ragazzi Impossibile diciamo Ok, io proverò a fare questo Quello? No, vai giù un secondo No, questo lo rupo la porta Vai giù in uno Vai giù in uno Ah? Vai giù in uno Anche se... così faccio il mio po'... sì ma se non puoi muovere così facilmente Guarda, quanto ce la faccio Ok, vai sotto il mio Non ci vediamo quando, sono di solito Eccomi ragazzi, Alessandro proverà a fare la provata Se fa la provata 20 like Scusate ragazzi, ho bloccato, lui è morto intanto Se fa questa provata 20 like ragazzi E via Non ci credo Non ci credo Cosa ha fatto? No, non ce la faccio anch'io In mezzo No, dove? No, no, questa qua 20 like 40 Dove fate? Non mi sono neanche bruciato un po' 40 like Dove fate? Se non mi date 40 like No, basta Mamma mia Basta, ha fatto la provata dell'anno No, basta da tutto Passate in mezzo Tutti entonces è bruciato Ci provo anch'io Vuoi vedere come muoio male, vero? Sì, lo so No Ciao, all'anno No No Ah no L'altro cuore Io adesso vado a fare quell'anno impossibile Difficilissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim Io provo a fare questo Tu fa questo Se ce l'ha fatta fornitorinco se ce la faccio altrimenti io non ho toccato niente sai perché? no tu l'hai toccato un pochettino vabbè all'inizio dopo io vi chiedo questa parte in cui salgo oh ce l'ho fatto anche questo come io vi chiedo questa parte che salgo raga eccomi qua adesso guardo quello di Alec appena fatto ha vinto Alessandro si può dire si ho vinto ma adesso lui è morto io può fare questo qua che è un po' mentre eravamo in pausa perché non glielo ho detto ecco adesso lo proverò a fare io se ce l'ha fatto spolliciate è il più facile che avessi mai fatto più facile che avessi mai fatto quello vicino pensavo che era il più difficile quale? quello vicino quello dietro questi qua sono difficili non li avevo ancora fatto il primo a sinistra questo qua è una cacata pazzesca lo so anch'io adesso ce l'ho fatta con tre cuori ho già fatto l'ultimo ovviamente è impossibile non toccare qualcosa ce l'ho fatta come prima aspetta 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 si è giusto ho vinto raga aspetti l'ho vinto tutto dopo questo me ne vado aspetta io solterò la parte in cui aspetto Ale perché magari muori tantissime volte noi ci vediamo quando Ale è tornato qua ragazzi Alessandro è abbandonato perché aveva già vinto prima noi ci vediamo al prossimo vi... no si no no non ci vediamo al prossimo video perché adesso farò un'altra mappa con Alessandro bella mi vinto io ho il parkour e questi e noi ci vediamo nella prossima sfida se lo faccio insieme al parkour siamo in un parkour e qua mi ammazzano 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 io parkour essere troppo forte ma mi sta ammazzando ammazzata lì basta che prendi tutto il cibo lì c'è tutto basta che prendi cibo l'armatura e tutto what? noi ci vediamo quando abbiamo finito ragazzi qua io ho finito mentre lui no eh certo due barate lui sta barando io no ah certo lui sono pro ah adesso ahia se forse forse il